Mi permetterete una battuta per iniziare questo video cercando di scioglierci anche un po' perché io qua sinceramente sono un pezzo di ghiaccio senza parole faccio anche un po' fatica Siamo venuti a Firenze per pareggiare ma l'abbiamo vinta perché... Allora, una piccola chicca per iniziare, due piccole chicche per iniziare La Fiorentina in Serie A ha preso ben 11 gol negli ultimi 15 minuti quindi quello di stasera è sì un caso ma è una cosa che gli succede spesso per darvi un'idea negli altri quarti d'orario, nel primo quarto d'orario 1, nel secondo 5, nel terzo 6 e poi nel secondo tempo, nel primo 7, nel secondo quarto d'orario 6 e nel terzo 11 quindi veramente la Fiorentina dovrà lavorare su questa cosa e era anche un po' la motivazione che mi ero dato sul primo tempo pessimo, terrificante della Juventus ho proprio pensato, diavolo, ci sarà un motivo se siamo stati così passivi una fase di non possesso palla brutta in cui non siamo mai riusciti nemmeno a tirar fuori un ragno dal buco non siamo riusciti, non il cognome del cilindro, il ragno dal buco, niente e invece al secondo tempo mi ha dato l'impressione proprio di aver visto una partita ancora una volta preparata per il pareggio, perché vi dico ancora una volta? ve lo dico subito con la seconda chicca prima di tutto vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, a questo video e di scaricare OneFootball, il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione fatelo perché sono veramente curioso di leggere le interviste post partita non solo di Allegri ma anche quella di Italiano, poi io mi sento di fare i complimenti all'italiano perché, detto proprio tranquillamente fuori dei denti, se una squadra meritava la vittoria stasera non eravamo noi, possiamo penso ammettere tutti poi il campo è terrificante il calcio, Allegri dice sempre l'ha inventato il diavolo sì l'ha inventato il diavolo perché non può una partita adesso vedrete la live reaction che vi porterò lo short, la live reaction in un minuto io non avevo parole, non sono nemmeno riuscito ad esultare al gol perché non ci credevo, vi giuro non ci credevo non capivo se la palla era entrata, non capivo se il gol era buono ma soprattutto la mia parte nazionale non poteva concepire che una partita del genere potesse essere vinta dalla Juventus quindi siamo venuti a Firenze per pareggiare ma l'abbiamo vinta cioè una roba fuori di testa qual è la roba che io mi ero già preparato mi ero già preparato tutto sarebbe stato il terzo 0-0 di fila in Coppa Italia per la Juventus di semifinale o all'andato al ritorno perché con Sarri in panchina pareggiamo per 0-0 all'Allianz Stadium contro il Milan e invece con Pirlo pareggiamo 0-0 all'Allianz Stadium con l'Inter sarebbe stato il terzo invece incredibile sto autogol di Venuti che cambia completamente il risultato di questa partita tra l'altro è un gol pesantissimo perché non è come in Champions che non c'è più il gol fuori casa vale doppio qui si vale doppio quindi segnare in trasferta era molto molto importante per quello che avevo anche un po' l'amaro in bocca ero molto arrabbiato per sta storia di dire diavolo se vale doppio, se tu devi cercare di segnare perché questa partita tendeista così passiva è davvero inquadrata sul non perdiamola poi lo sapete come la penso io tutte le volte che si vede una partita per non vincere in cui va bene il pareggio mi dà fastidio poi va bene qua possiamo mettere in ballo tutte le scusanti del caso quello che volete, gli infortuni, quello che volete però la Juventus che gioca per non vincere a me non va giù, è una roba che non mi va giù poi stasera abbiamo vinto, questo è un santo in paradiso che ci siamo tirati giù perché è veramente davvero una vittoria che non meritavamo tra l'altro mi ha riportato un po' la mente proprio all'anno del covid di Sarri perché il ritorno della semifinale di Coppa Italia si era giocato post lockdown e la Juventus aveva fatto quello 0-0 appunto con il Milan dove nei Milan e nei Juventus erano riuscite a fare chissà cosa poi stasera invece la Fiorentina ha fatto una buona partita poi è venuta meno nel secondo tempo dove la Juve è un pessimo primo tempo leggermente meglio nel secondo non chissà che cosa invece la Fiorentina sul lungo è un po' uscita dalla partita è un po' uscita dal campo non so dirvi perché però l'ho vista un po' andarsene nei minuti finali di partita nella seconda parte del secondo tempo e perché vi dicevo di quell'anno lì perché poi anche l'altra semifinale era stata 0-0 invece adesso ricalchiamo esattamente perché 0-0 noi invece mi pare che l'Inter avesse vinto con un gol di Eriksen forse addirittura non mi ricordo se è la calcio d'angolo o giù di lì comunque 1-0 e 0-0 nelle semifinali post covid 1-0 e 0-0 nelle semifinali 2022 di cosa possiamo parlare questa partita ragazzi? possiamo parlare di poche cose cioè di sta partita davvero c'è poco e nulla di cui discutere perché è stata credo il primo tempo se posso permettermi peggiore di quest'anno veramente zero spunti per cercare di far male all'avversario poi ribadisco non so se era stata preparata così voluta così cercata di tirar fuori nel secondo tempo ma nel secondo tempo non si è visto chissà che cosa è stata una Juventus che secondo me veramente puntava lo 0-0 e poi stasera abbiamo completamente sculato la vittoria all'ultimo e il piano gara di Allegri secondo me era chiaro e definito e cioè pareggiarla per 0-0 e poi giocarci la qualificazione a Torino poi andata bene io me lo porto a casa sapete sempre che per me il risultato è sempre la cosa più importante ma stasera è una prestazione aberrante questo va detto con grande chiarezza poi ribadisco sì gli attenuanti le tante partite, gli infortunati, quello che volete però stasera c'è stato proprio un approccio brutto brutto della Juve alla partita facciamo qualche parola anche su Vlaovic perché la partita nella partita era proprio questa e cioè Vlaovic che tornava a Firenze da avversario, da traditore da traditore allora sapete come la penso perché hanno già parlato anche in questi giorni su Twitch ma ci tengo a ribadirlo anche su Youtube per me era giusto fischiarlo Vlaovic e anche il fatto che la Fiorentina avesse dato questi fischietti per provare a intimorire il giocatore è una roba che ci sta, è una roba che rientra nella sfera del calcio dello sfottò di cercare di creare un ambiente sano, sportivo che possa anche deconcentrare gli avversari mettere in difficoltà quindi il fischio secondo me è anche una forma di rispetto nei confronti di Vlaovic della serie e ti temo sei stato importante per me quindi ti fischio perché mi hai fatto male ad andartene passiamo al lato invece dei cori razzisti perché io non li ho sentiti ma mi hanno detto che a inizio gara ci sono stati ora io non sono qui a dire sono accaduti per forza dico che coloro ci fossero effettivamente stati qua non stiamo parlando di tifosi stiamo parlando di test di cazzo stiamo parlando di coglioni perché veramente non c'è altro modo questo non è calcio questa è una cosa al di fuori dal calcio se sei stato allo stadio stasera e hai fischiato Vlaovic ci sta è giustissimo se gli hai fatto delle battute razziste se gli hai fatto degli urlati se gli hai detto delle cose brutte sei una testa di cazzo e questo non cambierà mai e rimarrai una testa di cazzo perché questa è proprio una roba fuori dal calcio fammela dire nella più totale tranquillità perché sono cose brutte che non dovrebbero resistere a maggior ragione dopo che pochi mesi fa questo ragazzo giocava da voi e le ha subite queste cose le abbiamo viste anche con i tifosi dell'Atalanta qua stanno facendo rivedere anche il palo di Cone però penso che la lettura della partita sia molto molto semplice cioè una Juventus che giocava per portare a casa a Torino una 0-0 per giocarsi alla qualificazione in casa invece una Fiorentina che ha fatto una buona partita infatti i complimenti all'italiano sono stati fatti la più grande occasione della Juve appunto è stato questo palonetto di Vlaovic nato con un lancio lungo ma una Juve che stasera veramente dovrà ammetterlo è stato fatto veramente troppo poco si poteva fare tanto di più minimo sforzo massimo risultato poca spesa tanta resa come si suol dire non mi è piaciuto tanto Quadrado ma non tanto per come ha giocato un paio di atteggiamenti ma poi ne parleremo nelle pagelle ci sarà da parlare anche di Ache ci sarà da parlare di Allegri ci sarà da parlare di tante cose è risultato perfetto stasera vittoria molto 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 fortunata fatemi sapere un po' anche la vostra qui sotto nei commenti io contento tanto della vittoria poi dobbiamo farci due domande su come è avvenuta io sto rivedendo l'optogola adesso ragazzi le comiche cioè le comiche poveri miei mi è dispiaciuto un sacco invece vedere venuti piangere ecco questo questo si mi è dispiaciuto un sacco pensieri sparsi pensieri al vento fatemi sapere la vostra grazie a tutti